Con Giovanni Salarese ne ho acquisto del Tracna Terracina. Giovanni dopo una vita spesa tra eccellenza, promozione e prima categoria e dopo aver ricevuto numerose proposte da parte di club che militano in queste categorie, hai deciso di sposare il progetto del Tracna Terracina. Puoi spiegare ai nostri microfoni le motivazioni che sono dietro questa scelta? Diciamo che grazie alla chiacchierata con il presidente e il mister sono bastati 5 minuti veramente per convincere a firmare per il Tracna, perché il progetto è ambizioso e la società è abbastanza seria. Poi hanno costruito una squadra che punta a vincere, quindi diciamo che le basi di giustizia. Ecco, a proposito di ambizioni e di squadre costruite per vincere, la vostra si presenta ai nastri di partenza con una rosa di tutto rispetto, con te, con Ledili, con Sacchetti, con Simone Lauretti ed è una squadra che sicuramente avrà in ogni partita i favori del pronostico. Credi che la pressione del risultato a tutti i costi possa danneggiare il vostro operato in campo? Danneggiare no, abbiamo tanti stimoli e tanta voglia di fare bene. Ora sono già due settimane che ci alleniamo e ci stiamo allenando bene. Ovviamente non ci nascondiamo che puntiamo a vincere, la squadra costruita per vincere e cercheremo di vincere tutte le partite. Poi qualora non dovesse accadere non ci saranno problemi, cambiano la loro. Grazie.